Siamo in stagione di anniversari, l'Università ha da poco concluso le celebrazioni del suo centenario, ma l'Università esiste in quanto esistano le sue facoltà. Coeva l'Università sono quindi le prime facoltà che hanno dato vite e avvio alle attività didattiche, tra queste la Facoltà di Scienze Sociali, allora così denominata, una facoltà che quindi ha accompagnato l'Università per tutto il corso della sua storia. La Facoltà di Scienze Politiche è già nella mente, nel cuore, nella determinazione di Giamelli quando Giamelli vede finalmente nascere l'Ateneo dei Cattolici Italiani. Certamente la storia di Scienze Politiche per i primi 40 anni è una storia talvolta complessa, talvolta tormentata, è una storia per molti aspetti nuova, dopo che appunto nel 68 viene applicata la riforma della Facoltà di Scienze Politiche, nota col nome di Riforma Miglio Maranini. Sono due momenti diversi di cambiamento ma non di discontinuità, momenti nei quali l'evidenza della politica e della storia prevalente nella prima fase viene poi resa esplicita e viene specificata in una serie di filiere di economia politica, di politica internazionale, di relazioni internazionali, di sociologia e via discorrendo. Indubbiamente la nuova Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica è stata e continua a essere un contributo fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, per affrontare quelli che sono i nuovi e difficili problemi di questa epoca. Questa facoltà ha una capacità che mette assieme le diversi componenti che danno una formazione politica complessa, politica pura, storia, economia, sociologia, statistica, cioè sono una premessa molto utile per chi vuole fare politica. La facoltà ha vissuto attraverso l'opera e l'attività di maestri in signi. Questa tradizione nobile e solida va avanti e l'auspicio è che prosegua ancora più significativa e importante per i prossimi cento anni.